Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a questo nuovo video Nel video di oggi voglio portare questo nuovo video un po' particolare perché ho notato nella mia quotidianità che mentre faccio la doccia si prolungano dei suoni veramente molto rilassanti per cui ho voluto provare a riprendere tutta la mia quotidianità con alcuni prodotti che io utilizzo solitamente e nulla, in questo video comunque parlerò molto poco perché voglio appunto farvi apprezzare al meglio tutti i suoni e poi voglio anche capire se preferite video in whispering e quindi parlarvi oppure preferite magari di un pochino più, diciamo, di suoni come si fanno con il personale, un po' particolare con il nome e nulla questa app, una piccola app per più di quello che vedrete in tutto l'arco del video e niente, io direi di cominciare subito parto subito accendendo una candela perché trovo sia rilassante il suono che produce che ho provato a farvi sentire e spero appunto si apprezzi bene e poi mi dà proprio quell'atmosfera di rilassanza dopodiché ho preparato, diciamo, l'acqua non ho utilizzato la vasca semplicemente per comodità perché, cioè, potrei averla utilizzata e però pensavo fosse più comodo farlo sulla tutta ma invece è stato veramente molto, molto, molto complicato fare questo video comunque, per chi avrà visto l'ultimo video con quello ho acquistato questo scrap della Zantik e non mi è piaciuto particolarmente a parte che riempie la doccia di pallini e ho sempre l'impressione che mi restino in testa o comunque non lava molto bene e non mi piace comunque ho utilizzato appunto questo shampoo benissimo, sentite che bel suono che produce lo sfragamento delle mani con il sapone e non mi piace e non mi piace e non mi piace e quindi ho risciacquato molto, molto, molto accuratamente tutti quanti i capelli e proseguo applicato in una maschera che per me è fondamentale perché ho i capelli perché ho i capelli molto, molto, molto gonfi che ho i capelli che per me è fondamentale e quindi sono abbastanza, non tantissimo comunque sono abbastanza più sani se si può dire così comunque questa è una maschera, io non ero molto fanatica delle maschere per i capelli ma diciamo che sono i capelli che stanno là e non si è un'epoca e non è un'ottima e non è un'ottima importanza più tardi bellissimi per cui questo ricordo che l'avevo comprata su un totino per ben l'offerta alla creativa pochino per 40 ma veramente un bel risultato a presto Grazie. 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 Continuo ad insafonare tutto quanto il corpo e niente, come avrò fatto questo è scopata la doppia e mi metto la mia crema come un prevetto di momento, diciamo, perché vediamo che altra preferita, ma anche questa è quella che preferiscono. Grazie. Questa è la crema che io utilizzo, vedete, c'è la prima, c'è la prima, c'è la prima, c'è la prima, c'è la prima. E vi la consiglio a tutti perché la sua bella è molto, 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 velocemente e non la sua bella è molto, anzi la sua bella è molto situata. Infatti, ho comprato anche quella per il viso, perché per il conto che hanno delle volte, molte, 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 che hanno un prezzo decisamente molto più alto il minuto. Ora vi lascio al soltello al corpo. Scusate, ecco. ... ... ... ... ... ogni 2 io lo faccio aggirlo al corpo del basso, il viso è razza per questo punto ho pubblicato l'acqua termale di ammelle in questo punto è necessario per il viso che vi consiglio è una crema basica ad aggiungere l'unico e nulla massaggio il viso e io ho un colizio mi lascio quello di me, più o meno quello che faccio ogni volta forse cambierò i prodotti ma bene o mai in questo grande ligno io vi ringrazio ancora per avermi sentito, per aver guardato questo video e vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao